Una vera rivoluzione nel settore caseario, la mozzarella di bufala campana d'op non sarà più imballata nel polistirolo. È stato di fatti sviluppato un nuovo packaging dal Consorzio di tutela del formaggio fresco in collaborazione con la società Impact. Sarà un cartone ondulato rivestito internamente da un film di pet a proteggere la mozzarella. Una svolta quasi epocale nella lunga tradizione di uno degli alimenti più amati e invidiati della cucina campana ma anche una scelta per tutelare l'ambiente, come ben spiega Antonio Lucisano, direttore del Consorzio. Abbiamo preso atto che ormai in molti paesi in cui noi esportiamo regolarmente le leggi diventano sempre più restrittive e quindi l'utilizzo di imballaggi come il polistirolo in alcuni casi già è vietato, in altri costa tantissimo per lo smaltimento e quindi abbiamo predisposto questi imballaggi che hanno la caratteristica di essere totalmente compatibili con l'ambiente, differenziabili in maniera assolutamente molto pratica per il consumatore, per la grande distribuzione e che tra l'altro sono degli imballaggi che danno dei vantaggi enormi alle nostre imprese perché? Perché lo spazio che questi imballaggi occupano è assolutamente meno di un decimo di quello che occupano gli imballaggi in polistirolo e quindi si aprono delle grandi opportunità anche in termini di logistica, in termini di spazi. Il nuovo packaging è stato presentato in conferenza stampa tra la soddisfazione di produttori e della società che ha lanciato il prodotto. Ascoltiamo Domenico Raimondo, presidente Consorzio Mozzarella di Bufala DOP e il general manager di Impact, Diego Rubino. Questo nuovo tipo di imballaggio noi l'abbiamo un attimino così valutato, già era nel passato che stavamo valutando questa soluzione diversa dal polistirolo proprio in virtù di dare un segno insieme a un prodotto DOP di che se ne dica di questa terra dei fuochi da anni e quindi proprio partendo da questo abbiamo voluto dare una battuta sulle vicissitudini che ci sono state nel passato. La necessità di innanzitutto avere la possibilità di sostituire prodotti che in parte inquinano e sono difficili da riutilizzare o riciclare e dalla necessità di avere un pack che potesse essere personalizzabile facilmente e individuabile anche con un interno ben evidente con i marchi praticamente del consorzio, individuabile il prodotto Mozzarella di Bufala Campana DOP.